Ogni parrocchia accolga una famiglia di profughi e l'appello a sorpresa lanciato ieri nel corso dell'Angelus da Papa Francesco, particolarmente sensibile all'iniziativa a favore dell'accoglienza e dell'integrazione. Le immagini degli ultimi giorni, soprattutto quella del bimbo siriano annegato, hanno spinto anche la Chiesa a rispondere concretamente per consentire a migliaia di profughi di avere un'accoglienza dignitosa. E ovviamente in prima fila c'è l'Arcidiocesi di Agrigento guidata dal Cardinal Francesco Montenegro. sulla stessa lunghezza d'onda del Pontefice e sui temi dell'immigrazione. E anche le parrocchie agrigentine si muovono, tra questa e quella della Madonna della Provvidenza e il centro Don Guanella, che due anni fa si è mobilitata per dare assistenza a centinaia di profughi. La nostra Chiesa agrigentina, come posizione geografica, è sottoposta, diciamo, messa alla prova, possiamo dire, da questo punto di vista, perché proprio per questo arrivo di profughi, di migranti, è chiamata ad accogliere queste persone che appunto arrivano nelle nostre terre e cercano comunque almeno inizialmente un punto d'appoggio per poi recarsi nei paesi soprattutto del nord Europa, dove spererebbero di trovare lavoro, uno sbocco lavorativo, un futuro migliore, diciamo. E in particolare appunto la nostra comunità parrocchiale, proprio due anni fa, come lei stessa ricordava, è stata ritrovata impegnata appunto in prima linea, in questo senso, accogliendo tanti profughi nei nostri ambienti parrocchiali, nel nostro oratorio e tutta la comunità si è mobilitata, possiamo dire, in questo senso, per accogliere queste persone che appunto arrivavano e avevano bisogno di tutto, del necessario, a partire dagli indumenti, dal vestiario al cibo, almeno per quei giorni in cui sono stati ospiti qui. Siete pronti dunque a rifarlo? Noi siamo sempre disponibili, ogni giorno siamo chiamati ad accogliere i bisognosi, coloro che cercano anche un pezzo di pane, possiamo dire, non solo provenienti da altri paesi non europei, ma anche della nostra stessa comunità. Il nostro quartiere, sappiamo bene, è molto variegato da questo punto di vista e ci sono tante famiglie e persone bisognose.